Ehi, ehi, cosa stai facendo, scusami? Niente, controllavo l'altezza del muro perché secondo me è un paio di centimetri sotto l'altezza consentita Sai come? Un bambino può anche scavalcare e si fa male, capito come? Ah, ok, ok Sai che hai un visto conosciuto? Tu... tu sei uno youtuber, vero? Chi? Io no, forse ti confondi con qualcun altro sicuramente Oh, errore mio Figurati è che... iscriviti e metti like! Magari ti confondi con qualche youtuber che conosci Oh, può darsi Senti, non stavi cercando di farla finita prima, vero? Ma che scherzi, cioè io no... Ah, devi scusarmi È che sembri proprio il tipo che vuole farla finita perché ha 25.682 euro di debiti Tu come fai a saperlo, scusami? Io so un sacco di cose su di te, mister novecentimetri Vabbè, ma quando fa freddo scusa, eh, cioè... Sei anche sensibile al gioco Anzi, vuoi fare un gioco con me? Non scommetto più, iscriviti e metti like perché pensi mi sei indebitato? Qui nessuno ha parlato di scommesse Io... ho chiesto un gioco Mi sa che sei gay, eh, ve? Di che gioco stiamo parlando? Nulla di complicato, è tutta roba che già conosci Ma in palio ci sono 5 milioni di euro Sono troppi soldi, dai, mi stai fregando Come vuoi, io cercavo solo di aiutarti Torna pure al tuo muretto Ma se cambi idea... Chiamo questo muretto Pronto, signore? Sì, salve signorina Mi hanno detto di chiamare questo numero per partecipare a un gioco Allora lei è scritto a gioco, buonasera Signore? Signore? Signore, si sente bene? Ah, non lo so Ma dove sono? Eh, non ne ho idea Ieri sera ero a casa mia E adesso... Stessa cosa Anche tu eri a casa mia? No Comunque piacere, Mario Nicola Ma puoi chiamarmi Nick Diamoci del tuo, va bene? Tu allora puoi chiamarmi Mar Mario andrà bene Ok, chi sono quelli lì sotto? Non lo so Non è gente che conosco Oh Vi ricordate come siete finiti qui? Io l'ultima cosa che ricordo è di aver fatto una telefonata Stessa cosa io? C'era questo tizio che iscriviti, metti like E poi mi sono ritrovato qui Aspetta, sei uno youtuber? Eri un mio fan Come l'hai capito? Ho tirato a indovinare Poi... Iscriviti, metti like So qualcosa di youtube Iscriviti, metti like Mi piace Metti mi piace Iscriviti Commenti Mi piace Siamo tutti youtubers Ma che cavolo sta? Avete deciso di vostra spontanea volontà di prendere parte a questo gioco In palio ci sono 5 milioni di euro Dovrete partecipare a pochi semplici giochi Chi vince prende i soldi E gli altri? Poi vediamo In che senso? Devi stare zitto managgio il cazzo va bene? Gli altri li ammazziamo, no? Che vuoi? Posso andare in bagno? Dopo Adesso dovete prendere parte al primo gioco Eh ma sono 26 ore Zitto zitto devi stare Allora il primo gioco con due tre stella lo conoscete? Dovete assolutamente indossare queste divise Ma è facoltativo Che vinca il migliore Che vinca il migliore Disponetevi ordinatamente e non rompete i coglioni Che il gioco abbia inizio Uno Due Tre Stella Uno Due Tre Stella Uno Due Due Tre Stella Un Corrente numero 6 eliminato Oddio se ci muoviamo ci sparano Se ci muoviamo ci... Se ci muoviamo ci sparano Corrente numero 5 eliminato Uno, due, tre, stella Tutto bene? Ho un crampo Probabilmente perché assumi pochi sali minerali Non ce la faccio più Sì ma non muoverti, quello ti spara Lo so ma fa troppo male Resisti, devi farcela Pensa alla tua famiglia Sono orfano Alla tua ragazza? Mi ha tradito ed è scappata in America Al tuo cane? Morto un mese fa Vabbè pensa ai 5 milioni Uno, due, tre, stella Un uomo Stim! 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 Il gioco è terminato. I concorrenti possono tornare nel loro torpitorio. Però ragazzi, potevate aiutarmi. E perché? Se vinciamo tutti, bisogna spartire. E io non li divido con voi 5 milioni. Beh, siamo emozionati. Siamo appena arrivati. Abbiamo scaricato una roba. Calibati colpi. Sono vestito da concorrente di Twitch Game. No, sei la mia mamma. A Burtino è un regalo di mia mamma. Dovete sapere che a Natale mia mamma fa questi bellissimi regali. E non so perché, mi è venuto in mente di prendere sta cosa.